Grazie a tutti. Si sente adesso? Sì, scusate. La pedologia, diciamo, i pedologi sono quelle persone che studiano il suolo in campo, si sporcano le mani, campionano, studiano, fanno analisi chimiche e fisiche per fare cartografie dei suoli e per fare cartografie applicate a risolvere problemi reali che riguardano l'agricoltura, ambiente, urbanistica e quant'altro. Quindi siamo sul pezzo, siamo un po' operai di quelle funzioni del suolo che diceva il Presidente prima. Io in qualità, come pedologo, mi sento veramente di ringraziare, devo iniziare da questo, da un ringraziamento ad Ispra per questo rapporto importante, per il lavoro silenzioso che fate Michele e voi tutti quanti, e anche per, mi unisco agli altri ringraziamenti, per organizzare questi eventi che sono molto molto importanti, anche perché già oggi in sala ci sono sensibilità diverse, ognuno di noi si è avvicinato a questo evento in qualche modo diverso. Io ho apprezzato moltissimo nell'intervento del Presidente e del Bernardinis questa filosofia di Ispra verso gli Open Data, l'attenzione ai processi, quando è stato detto che c'è bisogno di una profonda conoscenza dei processi, ecco, una cosa veramente importante, e penso che tutti l'abbiate colto, come dalle parole si evidenziamo che certe semplificazioni ci fanno male, non ci fanno andare da nessuna parte, perché poi il diavolo è nel dettaglio, quindi noi dobbiamo declinarlo nel dettaglio, e dobbiamo declinare nel dettaglio anche questa multifunzionalità. E quindi passo dai ringraziamenti a guardare al futuro, perché mi interessa un discorso ovviamente sul futuro, cioè io prendo atto di questa assunzione di responsabilità di Ispra che vuole avere un ruolo ancora più centrale sul discorso suolo, e quindi sta lavorando per ritagliarsi ulteriormente un suo ruolo e per dare un contributo importante. Però guardando al futuro, Presidente, io vorrei che facesse dieci volte tanto, perché c'è una differenza enorme tra la bellissima frase del direttore Laporto, il consumo di suolo è un lusso che non possiamo permetterci, dai comuni, quegli 8 mila e oltre i comuni, dove è là che consumiamo suolo. Quindi, se noi non ci inventiamo Ispra, come comunità scientifiche anche di supporto, lei prima ha detto non abbiamo strumenti per valutare le politiche, ed è una cosa drammatica, vera, dobbiamo lavorare assolutamente su questo, ma se non ci inventiamo degli strumenti operativi per aiutare anche quegli 8 mila comuni e le comunità che essi rappresentano, nella consapevolezza dell'importanza del paesaggio, dei suoli che hanno. E se non aiutiamo quegli urbanisti che a volte sono liberi professionisti, ma parlo solo del consumo di suolo adesso, poi ci stanno tutti gli altri, a volte sono uffici tecnici, che comunque sono soli, strumenti operativi, sono rispetto alla grandezza, all'enormità delle sfide ambientali. Quindi io dico che dobbiamo fare 10 volte di più e quindi dobbiamo un attimo ragionare, perché quelle decidere un'espansione urbana, una densificazione o applicare bene il decreto di legge, se diventerà legge sul consumo di suolo, che chiaramente lascia aperta tutta una serie di problematiche, di scelte che dovranno fare o le regioni, i comuni, insomma non è ancora chiaro, vedremo la formulazione finale, però comunque queste scelte vanno fatte ad esempio in base alle funzioni e i servizi ecosistemici persi. Lei diceva prima, quant'acqua quel suolo non assorbe più, quant'acqua quel suolo, quanto a pioggia non va più nelle falde a ricaricarle. Se noi non quantifichiamo le funzioni idrologiche, la sicurezza alimentare, la biodiversità, insomma tutte quelle funzioni del suolo di cui ci avete fatto vedere tutti in qualche modo delle belle diapositive, abbiamo perso la battaglia, perché non saranno le grandi enunciazioni dette qua che costruiscono automaticamente dei strumenti operativi a chi poi consuma suolo su delle pressioni e anche orientare le pressioni a scala comunale, perché le pressioni lo sappiamo non sono molto asimmetriche a dispetto delle belle parole della governance, poi sono asimmetriche perché i gruppi di interesse arrivano con una forza diversa al decisore, al piccolo comune che risente enormemente di quella comunità che gli sta addosso e quindi c'è una grande sfida, per questo dico dobbiamo insieme inventare delle strade, oggi abbiamo strumenti che erano impensabili pochi anni fa, oggi li abbiamo, però non li abbiamo ancora messi a sistema e ogni secondo ci dice Michela perdiamo 8 metri quadri, quindi è un qualcosa in questo senso credo che chi come me, insomma altri colleghi in sala studiano i suoli e la grandezza di questo corpo naturale, semmai tanti suoli in Italia hanno più di 10.000 anni di storia, quella potenza di fuoco, di fertilità che tu hai ti è stata data da 10.000 anni di storia sia dei fattori naturali, forse anche dell'uomo, però anzitutto i fattori ambientali che hanno lavorato su, quindi hai una responsabilità importante verso le generazioni future, costruiamo qualcosa. Qua vado al secondo punto che quasi non avrei voluto dire, però mi sfugge e lo devo dire visto che sono un universitario, il dramma culturale e diciamo il ministro Galletti ha detto una cosa bellissima, l'importanza della trasmissione della cultura dell'ambiente, aggiungo io suolo perché siamo qua sul suolo quindi intendeva sicuramente anche questo, ai nostri ragazzi. In realtà il suolo noi non insegniamo, noi nelle scuole, cioè c'è una mancanza di consapevolezza drammatica, l'Unione Europea lo sa, forse noi lo sappiamo un po' meno, una pochissima consapevolezza, l'ho accennato all'inizio, su che cos'è questo suolo, a volte anche nell'associazione ambientalista, che non è un corpo bidimensionale, ha una profondità, ha uno spessore, non è rinnovabile, queste cose che per chi si interessa il suolo sono banali, poi in realtà non sono banali e richiedono un'assunzione di responsabilità. Il problema è che questa trasmissione di che cos'è il suolo non riguarda solo i ragazzi, riguarda anche tutti i livelli, abbiamo un'emergenza culturale, noi ci mangiamo solo, ma non c'è consapevolezza di che cos'è e delle funzioni che esso svolge a casa mia, che è diverso rispetto al comune vicino, a una forma di paesaggio vicino. Quindi questo pone il problema che io rappresento qui, quindi il mondo dell'università, dell'accademia, nel campo della pedologia, ma qui nel Lazio, nelle università del Lazio, le metto tutti insieme, c'è un pedologo. Nel Veneto, dove stavo ieri all'autorità di Bacino Alto Adriatico, per parlare di suoli pieni, eccetera, l'anno scorso abbiamo perso l'unico pedologo che insegnava all'Università di Veneto. Cioè una situazione veramente drammatica, siamo soli, quindi voglio fare, insomma, è un grido di allarme, è un grido di aiuto in questo senso. E Presidente, forse la situazione non è poi così diversa anche a casa nostra, cioè andrebbe fatta anche una riflessione a casa Ispra, quanta pedologia c'è per quelle sfide così importanti di cui stiamo parlando. E chiudo volendo solo ricordare che a fronte di tutte queste iniziative legislative, ce n'è una importante che ha ricordato il Presidente Formigoni, quello come prima firmatario, Ruta, un disegno di legge presentato in Senato da 20 società scientifiche che rappresentano tutto il panorama italiano, il settore agricoltura, foreste e agroalimentare. Questi 20 società scientifiche si sono messe insieme per aiutare anche la proposta di legge del consumo di suolo con cui non va assolutamente in composizione, anzi l'aiuta, per costruire un sistema nazionale. Perché qua Ispra vuole avere un quadro centrale ed è una cosa bellissima, dieci volte tanto, ma il know-how sui suoli ce l'hanno le regioni e qui in sala abbiamo i pedologi regionali. E purtroppo è un quadro estremamente frammentato perché giustamente ogni regione è andato un po' per conto proprio. Era questo che doveva fare e l'hanno fatto bene. Però oggi il mondo è cambiato. Oggi abbiamo bisogno di qualcosa di diverso. Questa proposta di legge che io spero Ispra possa appoggiare è una proposta che vuole aiutare a risolvere questo pasticcio tutto italiano dove tantissimi soldi e contribuenti sono stati spesi, ma non riusciamo ad avere un quadro di conoscenza unitario della risorsa, delle funzioni ecosistema. Dove andiamo se non abbiamo un quadro unitario sul nostro territorio? Grazie, è finito. Grazie Fabio Terribile. Ispra non vuole essere Ispra. Ispra ha lottato in questi anni anche presso le commissioni parlamentari perché finalmente nascesse un sistema nazionale che vedesse il concorso oggi a legislazione così com'è di concorso Stato-Regioni. Questo potrà anche trasformarsi in futuro, ma sarà sempre un sistema. E la ragione era in un difetto nei servizi tecnici dello Stato, così come lo proponeva la 183 e che va incontro a quello che dici tu. Il problema vero è ricostituire e riformare un processo di cultura tecnica e dare supporto a questa cultura tecnica sino alla scala comunale, cioè sino all'ultimo, da una parte all'ultimo operatore tecnico e dall'altra affiancarsi agli ordini professionali, ai professionisti e costruire una sinergia capace di essere virtuosa rispetto a certi valori che noi affermiamo. Allora, questo è un percorso lungo e difficile. Il disegno di legge Bratti, di cui ha parlato l'onorevole De Rosa, l'abbiamo voluto fortemente perché è comunque una riorganizzazione di servizio tecnico nazionale, tenendo conto proprio di questa necessità più che di una strutturazione, architettura istituzionale, di riuscire a penetrare sul distribuito, a raccogliere quelle competenze che sono distribuite, a renderle sinergiche. Voglio che questo sia molto chiaro. Ispra non si propone, Ispra. Ispra si propone come il propositore, il portatore di questo disegno complessivo che va dalla protezione civile, consentitemi, al sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e ad altri servizi, se riusciremo in futuro, che servono al nostro Paese. Quindi questo è l'obiettivo, Curcello, quindi sono d'accordissimo con te. Da una parte ci vuole la costruzione del sistema, a cui abbiamo dedicato tutto il nostro tempo, e le competenze io le vedo anche, soprattutto derivanti dalla comunità scientifica, che vanno a trasformarsi in servizi di responsabilità. Allora questo è il processo che in qualche modo siamo riusciti a mettere in piedi e credo che questo è il processo che dobbiamo sostenere, cercando di trovare gli spazi di sostenibilità laddove li possiamo trovare, visto che, e credo che sia anche stato un elemento virtuoso, soldi ce ne sono pochi, perché i soldi poi, secondo me, offuscano un po' i disegni invece virtuosi di costruzione di percorsi che siano veramente efficaci, efficienti e quindi economici. Credo che questo sia un punto necessario. Chiamo Marco Marchetti, credo di fare l'ordine giusto, sto dando un po' l'ordine alla comunità scientifica. Marco Marchetti, vi prego di stare nei... Due minuti. No, no, sì, nei cinque minuti. Nei cinque minuti ognuno, perché se no non ce la facciamo. Assoluto. Poi chiamerò Stefano Salvi e credo che quegli iscritti non ci siano più, diciamo, accademici, tra virgolette, all'interno di chi mi ha chiesto di intervenire. Guardo in giro, senza occhiali, non vedo niente, va benissimo. Ok, così.